Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta a Anna Falcone, avvocata attivista di sinistra, buonasera, bentornato Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera e buonasera, bentornato Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato del gruppo Misto. Chi decide cos'è razzismo? Se lo chiede Salvini, guidando così tutta la destra, ad astenersi sulla commissione segre contro la cultura dell'odio. Ma è così difficile capire cos'è razzismo? Subito dopo la pubblicità. Vittorio Sgarbi, allora chi decide cos'è razzismo? Perché questa è la domanda che si è fatto Salvini guidando tutta la destra ad astenersi sulla commissione segre, quella contro la cultura dell'odio. Ma è davvero così difficile stabilire, decidere cos'è razzismo? E lei, come lei è stato eletto con Forza Italia, poi è passato nel gruppo Misto, ma lei in questa vicenda sta con Mara Carfagna oppure sta con Salvini? Sto con me stesso e dico che ha ragione il cardinale Parolin, nel senso che su alcuni punti sarebbe bene non dividersi per opportunità politica. Quindi Salvini, che ha un rapporto diretto e non ipocrita con il popolo e quindi anche con le istituzioni repubblicane, sa una cosa che non può essere negata, che le commissioni sono spesso inutili e servono a dare il senso di una responsabilità del Parlamento rispetto a un tema sociale su cui ci sono evidentemente dei correttivi a partire dall'azione della magistratura. È il caso della P2 che ebbe un processo molto preciso e debba una commissione e questo vale per la mafia, per l'antimafia. Quindi non credo che avrei fatto la scelta di Salvini, credo che sarebbe stato meglio dire siamo d'accordo tutti, tanto la commissione consacrerà una legittima e democratica posizione contro le forme di antisemitismo. Vero è che esiste un antisemitismo mascherato che è quello di molti che sono legati a una visione di Israele come di uno Stato canaglia e intendono con ciò un antisemitismo di ritorno. Cioè il giudizio negativo, lo sa bene Mieli, di molti da Moni Ovadia a tanti che sono anche ebrei rispetto all'Israele di Netanyahu è a sua volta un atteggiamento antisemita. Quindi esistono problemi molto complessi nella realtà odierna rispetto alla... No, 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 ma stiamo al tema specifico di questa commissione che ha chiesto alla senatrice Liliana Segre che siccome lei riceve 200 messaggi sui social al giorno di odio e di minaccia antisemita, lei e molti altri che credono che siamo un paese civile si sono un po' inquietati. Paolo Mieli, allora la destra ha fatto un clamoroso errore ad astenersi o ha voluto strizzare in realtà l'occhio a un certo elettorato? Perché anche se oggi pomeriggio hanno cominciato a fare qualche distingua dalla Meloni, alla Gelmini, a Tajani? No, quelli di Forza Italia sono subito corsi ai ripari perché sono quelli che hanno fatto la figura peggiore, nel senso che si sono astenuti senza neanche esserne convinti fino in fondo, visto sui giornali una posizione di fiamma nere, anche pure le cose di cui parlava adesso Sgarbi, è la più grande attenta nel mondo che però ha detto che fosse stata ancora parlamentare su una commissione Segre non avrebbe avuto dubbi, avrebbe votato a favore. La verità è che poi anche la Meloni, come tu hai ricordato, si è ha telefonato la Segre, si è scusata, io invece Salvini è andato per la sua strada, fatti suoi, un errore, insomma sono errori che danno l'impressione di cui parlavamo prima, l'impressione di strizzare l'occhio a chissà chi, cioè ai settori dell'istema destra antisemite. Io mi ha molto incuriosito questa cosa della Meloni perché nel senso che la Meloni rappresenta qualcosa di molto simile all'universo salviniano ma in modo più accettabile, innanzitutto è donna. Io non voglio rendere omaggio al tuo libro. No, 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 rendiamo omaggio in questo senso all'unica leader di un partito politico in Italia, è l'unica che guida un partito. Loro al centro destra si presenta con le donne e poi ha posizioni molto decise, a volte più decise di quelle di Salvini ma le presenta in una maniera accettabile. È paradossale, è la leader più a destra che ci sia in Italia e in più rappresenta nella destra quel giochetto che fu fatto col precedente governo che sono maggioranza e opposizione, lo stanno facendo all'interno della destra, cioè che sembra che la contrapposizione avvenga fra due rami della destra. Quindi attenzione. Sì, non so se su questo caso specifico Anna Falcone per la verità si sono astenuti tutti insieme in modo compatto, poi insomma devono essersi accorti alcuni che hanno un po' pestato e quindi cercano in qualche modo di fare marcia indietro. La Meloni oggi tra le varie cose ha detto che la commissione approvata dalla maggioranza, la commissione Segre, appare uno strumento molto debole di contrasto all'antisemitismo ma al contempo uno strumento molto forte di censura politica. Lo vede anche lei e dov'è oggi in Italia la destra liberale antifascista? Volevo soltanto chiusare dicendo che c'è anche un'altra donna segretaria di un piccolo partito che è così possibile, Beatrice Brignone, che sicuramente non ha lo spazio che ha Giorgia Meloni, però è vero che effettivamente c'è un grosso deficit di rappresentanza anche da questo punto di vista e il centro-sinistra dovrebbe essere forse un po' più coraggioso. Torno alla sua domanda su dov'è la destra liberale che è la cosa forse più interessante. Si è fatta evidentemente fagocitare da una destra gutturale, non a caso definita la peggiore destra che abbiamo visto dalla nascita della Repubblica, è quella che non ha paura di continuare a negare anche un fenomeno così evidente come quello della diffusione dell'odio, della sponsorizzazione dell'odio come unica strategia politica di ricerca del consenso in una democrazia elettorale. La nostra ormai è una democrazia elettorale, una continua campagna elettorale in cui il pensiero della destra liberale, che è sempre stato un pensiero critico, un pensiero articolato, un pensiero pluralista, deve cedere necessariamente il passo a degli slogan che si guardano bene poi dal risolvere i problemi delle persone. Sgarbi, vede anche lei che questa commissione, come dice la Meloni, è poco efficace contro l'antisemitismo e però è uno strumento molto forte di censura politica? E' una definizione perfetta della generale inutilità delle commissioni come la commissione stragi, la commissione antimafia, la commissione sulla P2, sono commissioni che servono a garantire l'odorabilità del Parlamento e la sua presenza davanti ai fatti della realtà, quindi è vero che non sarà efficace questa commissione, è vero invece che andrebbe fatta una commissione contro l'antisemitismo di una certa sinistra e l'antisionismo rispetto allo Stato di Israele, quello che diceva prima Meli, che io ho detto, quello è il problema vero, che noi abbiamo una parte di sinistra che ritiene Israele uno Stato canaglia e lo ritiene uno Stato nazista. Quella è una cosa che meriterebbe una commissione per capire quali ragioni portino la sinistra e anche una sinistra come quella di Monio Baglia che è ebreo a ritenere Israele uno Stato che non può essere accettato tra gli Stati democratici. Mi pare molto più grave che non l'antisemitismo diciamo fatto da quattro imbecilli che sono nostalgici di un mondo che non c'è più e che non ha senso che ci sia. Ammieri siamo arrivati al paradosso, adesso Sgarbi vuole una commissione per invece censurare un'anti... c'è una sinistra che diciamo vogliamo anche ricordare che per fortuna Israele è un paese democratico che vota regolarmente, che ha dei governi di destra, centrodestra, destra estrema o di centro... quindi diciamo è un po' più articolata la situazione. Sì sì però credo che Sgarbi si riferisse al fatto che il 25 aprile regolarmente la brigata ebraica viene fischiata, c'è qualcosa di strano, una percezione strana alla sinistra, ma ragioniamo sulle commissioni. Una parte della sinistra, eviterei generalizzazioni perché chi considera... Ma tutta una parte, perché anche una parte della destra fa questa cosa... però diciamo ci sono dei fenomeni che vanno tenuti nel conto, cioè c'è una parte della sinistra, una parte speriamo minoritaria... La sinistra democratica rifiuta l'odio ed è giusto ed è poverente che questo odio venga rifiutato come strategia e come metodo... E non ha problemi a proclamarsi antifascista, mentre invece una parte di questa destra che abbiamo oggi in Italia... Come dovrebbe fare tutta la destra democratica? Qualche problema, lo dico, ricordo solo così... Assolutamente, però c'è anche una parte che ha minoritaria... E non rappresentata in Parlamento in questo momento, mentre invece è stato veramente avvilente, grave, una pagina da dimenticare, vedere tutti quei parlamentari, ed erano tanti parlamentari, cioè c'è una destra parlamentare che oggi oggettivamente non si riconosce in quelli che sono i confini costituzionali della nostra democrazia. Il fascismo non è una ideologia democratica e accettabile. Di quali sta parlando? Tutti l'intera destra che si è... Io mi dissocio da questo giudizio, perché un conto lo stigmatizza... Insomma, anche della figura di Liliana Segre. Ma che c'è questo? Allora, onore a Liliana Segre, rispetto, però lei ha detto un'altra cosa adesso, ha detto che tutti quelli là non si riconoscono i valori... Chi non si è alzato sicuramente si pone in contrasto rispetto ai valori che lei rappresenta. E questa è una repubblica che è nata sull'antifascismo, anche sull'antifascismo liberale. E questa è la cosa grave che oggi non troviamo nel Parlamento. Una destra liberale e legittimamente, democraticamente antifascista, perché la nostra è una costituzione antifascista che non ha trovato spazio, se non in pochi rappresentanti, e sono stata molto contenta che Mara Carfagna, mi fa piacere che sia anche una donna, a prendere questa posizione, abbia ribadito da destra che quella probabilmente non era una posizione coerente con i valori della destra, democratica e liberale. Questo era il punto che intendevo sottolineare e che secondo me va discusso. Ma c'è oggi una destra liberale e antifascista in Italia? Ma adesso passare da un'astenzione... No, 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 ma adesso a prescindere... No, questo ho detto appena adesso... Io ho parlato del gesto anche di... Sì, sì, il gesto di astenersi. Non solo di astenersi, di non alzarsi e di applaudire la Senatrice. Il voto di astenzione è legittimo e significativo. Il fatto di non voler rendere omaggio anche alla cultura che lei rappresenta, che è una cultura non di destra o di sinistra, ma è una cultura, insomma, democratica, ribadisce i fondamenti della nostra... Allora, io mi alzo in piedi parlando della Senatrice Segre. Lo facciamo più volentieri, lo facciamo insieme e facciamo un bellissimo gesto tutti quanti. State attenti a non esagerare che un gesto dell'astenzione dica che si collocano fuori dalla Costituzione e nel campo del non-antifascismo, attenzione, perché secondo me sono segnali di settarismo. Io trovo che sia stato un gesto stupido. Guardi, io vengo da una cultura che tutto tranne che settaria, io vengo da una cultura socialista che tutto tranne che settaria. Però possono parlare anche gli altri, quelli che hanno una cultura che... Devono poterlo fare, ne avranno la possibilità in questa commissione, infatti, credo. Un gravissimo errore. Penso che abbiano fatto bene quelli che hanno telefonato alla Senatrice Segre. Non avrei avuto dubbi a alzarmi, però state attenti, stiamo attenti, lo dico anche a me stesso, a non cercare di fare, di usare queste questioni per metterle fuori Costituzione. Guardi, non ho detto questo, non sta a me ribadire... Comunque che la destra liberale in Italia sia minoritaria, ce lo dicono anche, non solo i sondaggi, ma anche le elezioni del governo, è importante chiarire che è una destra parlamentare, ho detto che c'è una destra parlamentare che di fatto nega il principio, o sembra negare il principio, insomma i principi dell'antifascismo. Sgarbi non la appassiona tanto più, dato che abbiamo già detto, no, 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 poi adesso voglio passare invece a un'altra questione, perché questo governo, questo governo che è molto poco coeso, questa almeno è l'impressione. Alcuni osservatori si spingono a dire, pensando e analizzando il Movimento 5 Stelle, che è un movimento che potrebbe addirittura estinguersi. Lo pensa anche lei? E dove andrebbero i voti in libera uscita? Le lo chiedo perché all'interno del governo, essendo diciamo l'azionista di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, ha però il suo leader Di Maio, che è quello che tutti i giorni, su almeno una cosa, prende le distanze e si differenzia dalle decisioni governative. Non è che lo penso anch'io, l'ho detto per primo, anche venendo a otto e mezzo, in più occasioni ho detto che 5 Stelle sono destinate a evaporare, perché non avendo alcun principio legato a valori ideali o culturali rappresentati dalla figura di Grillo, che ha insultato i suoi perché alla fine non volevano allearsi con il PD, che lui per tutto il tempo ha memorizzato, è chiaro che siamo nella confusione mentale di un padre disperato e di un uomo che non ha nessuna indicazione, altro che ordinare ai suoi eletti tutti al suo posto, essendo lui il solo che ha preso i voti, di fare quello che decide, cioè una dittatura reale su cui dovremmo fare una commissione parlamentare, una commissione parlamentare se un partito possa essere diretto da uno che non è in Parlamento e che ha forme di alterazione per cui dice una cosa e poi il suo contrario, fa l'alleanza col partito che odia, insulta Renzi e fa l'alleanza con lui e quindi a questo punto è passato dal 33 al 7, mi pare che quel 7 sia un dato matematico e oggettivo che io ho indicato per primo come destino di un partito che ha persone gentilissime, bravissime, casualmente entrando in Parlamento, ma casualmente nessuno ha preso un voto che non fosse di Grillo e estinguendosi i voti di Grillo si estingueranno anche loro, il loro deciso di sparire ed è per questo che ho parlato con Zingaretti dicendo è bene che tu esca da questo fallace e folle matrimonio perché corrompi la sinistra legandoti a 211 fantasmi che oggi sarebbero 50 se andassero con i dati anche del 15% se mai ci arrivassero quindi quando Mattarella che è un esponente storico del partito democratico ha fatto questa alleanza con suo compiacimento, ha fatto l'alleanza con dei morti e lui non poteva non pensare che le elezioni europee davano un indice nuovo nella posizione popolare che ha raddoppiato i morti di un partito e dimezzato quelli di un altro e oggi ne ha la prova con l'Umbria spero che la prossima volta tra qualche mese scioglierà le camere e manderà il voto non vedo dubbi Lo spera anche lei Mieli perché lei di questo governo ha detto dall'inizio che non pensa che durerà molto, quanto poco durerà? Pieno giugno, maggio o giugno Del prossimo anno Nel senso che bisognerebbe arrivare dicono all'elezione del nuovo capo dello Stato Io ho già detto quello che penso, penso che la legislatura tendenzialmente, perché poi bisogna vedere se il centro-sinistra perderà la maggior parte delle prossime regioni effettivamente le cose si metteranno male, soprattutto quello che abbiamo visto in Umbria per le proporzioni di questa sconfitta, però insomma quello lo vediamo Ma il governo può andarsene anche restando in tutta la legislatura, si fa un altro governo Questo quando ho previsto che questo governo fosse di breve durata, che durasse un anno un po' meno, perché come ha preso le mosse a settembre prevedo che duri fino a giugno Per poi non si andranno le elezioni, si ricomincerà tutti i soggetti che oggi legite sui giornali che dicono se nel caso cadesse Conte si va alle elezioni, mentono, ormai è già approvato perché l'hanno già detto l'estate scorsa, si cadrà Conte Lei pensa che fino a giugno e poi non ci saranno di nuovo niente elezioni e un altro governo con un altro premier per dire Sì, forse anche con una maggioranza allargata, nel senso che le persone di cui stiamo parlando noi forse, tipo la Carfagna o altre persone in uscita da Forza Italia andranno a soppiantare alcuni che invece andranno via Forse però Anna Falcone ha ragione Sgarbi che l'unico che non ha interesse a protrarre in un scenario simile una situazione di non voto è il PD di Zingaretti o no? Io penso che sicuramente il PD vista l'azione di responsabilità che ha svolto nel costruire questo governo con i 5 Stelle è evidente che le mosse di Zingaretti sono state le mosse di un le leader che anche se in origine contrario a questa idea, così aveva detto ha deciso di prendersi la responsabilità di portare questo Paese con questo governo o con un altro governo di cui però inevitabilmente dovrà far parte anche il PD fino all'elezione del Presidente della Repubblica Che è nel 2022 Che è nel 2022 Ora la durata di questo governo però secondo me dipende dalla sua capacità di cambiamento perché è vero che le prime mosse sono state dettate dall'esigenza di fare una legge finanziaria che evitasse in qualche modo l'aumento dell'IVA e quindi di fatto una situazione di grave difficoltà per il Paese Ma fino ad oggi non c'è stato quel cambio di passo e quella reale percezione di un governo di segno, non dico esattamente opposto, però significativamente opposto rispetto al passato Ci sono degli enormi problemi di diseguaglianze, lavoro, politica estera e gravissimo in questo momento gli accordi con la Libia Noi dobbiamo essere chiari da questo punto di vista O questo è un Paese che si fonda veramente sul rispetto dei diritti fondamentali della persona che mette, essendo un governo di questo colore al centro il problema drammatico della sopravvivenza, del lavoro, di una riconversione energetica Non lo stanno facendo Ancora non si è visto Si sono viste alcune cose, alcune piccole, alcune piccole cose però la politica si fa non con la legge finanziaria, non con la legge di bilancio si fa con le riforme e le riforme richiedono tempo, richiedono approfondimento e magari anche un consenso un po' più ampio di quello che si è riuscito a ottenere finora in Parlamento Vittorio Sgarbi Si fa un gran parlare e se ne farà sempre di più delle elezioni regionali per la presidenza dell'Emilia-Romagna il 26 gennaio prossimo che sarebbe una specie di Stalingrado se il centro-sinistra perde la regione Emilia-Romagna allora sicuramente il governo crolla, sicuramente crolla tutto Lei che è emiliano, nella sua regione il centro-sinistra si merita di andare a casa? Non so se si merita di andare a casa ma è andato a casa a Piacenza, a Forlì, a Ferrara, a Parma anche se con la sindacatura Pizzorotti quindi resiste in pochi luoghi e credo con molta fatica se dovessero fare l'alleanza con i 5 Stelle dovrebbero mettere in discussione il buon presidente attuale che è in uno stato di evidente difficoltà sono certo che l'Emilia-Romagna verrà perduta dalla sinistra ma non è per questo che si andrà a votare è perché o vai a votare prima che si attiva la legge elettorale che deriva dalla rinunzione dei parlamentari e allora eleggerai un presidente vero che corrisponde a un Parlamento vero non puoi con questo Parlamento che si è ridotto i parlamentari eleggere con mille deputati il Presidente della Repubblica l'onestà e la dignità di un presidente è di essere eletto dal Parlamento reale o che esce da elezioni precedenti la riduzione quindi votandosi in tempi brevi tra maggio e giugno al massimo con il referendum di cui si parla oppure una volta che sia stato stabilito che i parlamentari devono essere un terzo di meno quelli devono votare il Presidente sarebbe immorale ovvero Renziano Renzi pensa di fare un colpo di mano eleggendo con questo Parlamento morto il Presidente vivo è un errore gravissimo che minerebbe la dignità del Presidente quindi questo secondo me è vitale se si vuole votare a mille devono essere mille nuovi altrimenti diventa un furto un furto di democrazia un'elezione abusiva un atto inaudito per lo stesso Presidente eletto parole grosse io penso che può darsi che le cose si mettano così vedremo come vanno le elezioni anche se non c'è niente col discorso che ha appena fatto Vittorio Sgarbi ma per questo non è necessario votare nella primavera del 20 si può votare pure nel 21 oppure nell'autunno del 21 basta votare prima del 22 credo che quindi questo Parlamento attuale non dovrebbe eleggere il prossimo Presidente della Repubblica diciamoci la verità già le elezioni europee sono andate come sono andate se tutte le regioni d'Italia più o meno tranne qualcuna dovessero mostrare un segno certo tutto si può fare però sarebbe una cosa che in più in più noi non calcoliamo tutta una serie di cose gliene dico una sola noi vediamo solo i grillini che fuggono verso sinistra o che vanno ma guardi che è possibile è possibile che ce ne siano anche che fuggono verso destra a quel punto se ci fossero 10 senatori grillini 15 che vanno a destra a rivederci alla legislatura io penso che ci siano già e penso che se Alvini non li attivi perché adesso non si andrebbe a votare perché c'è tutta la storia del referendum ma appena sarà fatto tutto il referendum appena sarà fatta la legge elettorale e per questo prevedo giugno così vedrà che la musica 8 e mezzo l'anno prossimo sarà diversa lei pensa che questo Parlamento non dovrebbe arrivare al 22 per eleggere il Capo dello Stato? io penso che questo Parlamento è pienamente legittimato a portare a termine la sua legislatura come qualsiasi Parlamento democraticamente eletto ma credo che si stiano facendo i conti senza l'ossa nel senso che non è assolutamente detto che tutte le regioni saranno vinte ho detto sì infatti sì infatti anche questo significa avere rispetto dell'elettorato vediamo come andranno queste elezioni regionali anzi io credo che se questo governo avrà il coraggio di iniziare a fare alcune riforme che diano veramente il senso di un cambiamento che poi è quello che chiede anche l'elettorato del Movimento 5 Stelle che finora non l'ha premiata alle regionali allora probabilmente ci sarà anche un effetto traino sulle elezioni regionali a una condizione mi permetta di dire che una volta tanto finalmente per le regionali non si cerchi di rilegittimare un ceto politico che ha evidentemente concluso il suo ciclo di vita ma si riesca a premiare la rappresentanza di persone che veramente rappresentano per la propria vita per le battaglie che fanno i valori di un nuovo centrosinistra di una nuova sinistra scusi posso farlo un appunto siccome so che lei lo sostiene sempre dia pure al centrosinistra il consiglio di mettere qualche donna qualche volta no io lo sostengo continuamente lo dico senza timori e senza difficoltà su questo il centrosinistra è molto deficitario sul fronte della rappresentanza delle donne anche perché ci sono ci sono tantissime donne in gamba nel centrosinistra non si capisce per quale motivo ecco io però adesso si capisce che io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro abbiamo parlato di questo governo e grazie a questo esecutivo si è tornati a parlare di lotta all'evasione fiscale poche seconde di pubblicità e poi il punto sui giornali locali un tempo si pubblicavano i redditi dichiarati dai cittadini più in vista dagli imprenditori dai notai dai medici dagli avvocati e da altre categorie professionali si pubblicavano anche i nomi dei maggiori contribuenti e di chi aveva dichiarato reddito zero era un lavoro affidato ai cronisti alle prime armi che trascorrevano intere giornate nell'ufficio delle imposte dove era possibile consultare il registro degli imponibili e trascriverne il contenuto il lavoro sarebbe stato più agevole se per un qualche pudore burocratico relativo alla privacy non ci fosse stato il divieto di fotocopiare i dati quel rito che si ripeteva una volta all'anno e che faceva impennare le vendite dei giornali fu possibile per 35 anni finché nel 2008 pochi giorni dopo essersi insediato il governo Berlusconi 4 stabilì che sempre in nome della privacy l'elenco delle dichiarazioni dei redditi non fosse più consultabile era la risposta alla clamorosa decisione del precedente governo Prodi di mettere online le dichiarazioni dei redditi di tutti i cittadini italiani accadde il 30 aprile del 2008 quando per circa 10 ore collegandosi al sito dell'agenzia delle entrate fu possibile consultare online gli elenchi completi e nacque una polemica furibonda con la destra che accusava la sinistra non solo di violare la privacy ma anche di fomentare l'odio sociale e di fornire un servizio a ladri e rapinatori uno dei più critici verso la pubblicazione fu Beppe Grillo che sul suo blog definì la lista una colonna infame e accusò Prodi Visco e Padoa Schioppa di essersi piegati ai voleri di mafia Ndranghe Tacamorra e Sacra Corona Unita il sito fu oscurato e da allora di trasparenza nell'adempimento degli obblighi fiscali non si è più sentito parlare Vittorio Sgarbi Telegrafico lei sarebbe favorevole a rendere pubbliche le dichiarazioni dei redditi di tutti i cittadini? Assolutamente sì d'altra parte in questo il Parlamento dà l'esempio i nostri redditi sono dichiarati fino al minimo addirittura chiedendoti quale io presiedo alcune associazioni gratuitamente come il Museo Mar di Roveretto e come la Gipsoteca di Possagno mi hanno rimproverato e non averli messi benché non portino alcun reddito quindi diciamo così come fa il parlamentare deve fare il cittadino l'evasore poi va punito attraverso una misura di sequestro di quello che non paga l'arresto mi sembra una misura perversa perché a quel punto non darebbe neanche quello che può dare allora lei ovviamente anche sarebbe favorevole immagino Mieli anche lo do per scontato ma io la voglio interpellare sull'ultimo libro Le verità nascoste pubblicato da Rizzoli mi dica la più grande bugia che ci tocca più da vicino mi prende a bruciapelo ma visto quello di cui stiamo parlando è una bugia che coinvolge anche me noi abbiamo raccontato ci siamo raccontati che nel 92-94 finì la prima repubblica invece non è mai finita stiamo continuando anche con qualche pregio non è mai finita e purtroppo anche queste discussioni che facciamo sono lo specchio di una deriva demagogica che speriamo prima o poi finisca perché d'accordo tutto sono tutte cose rendiamo pubblici redditi di chiunque togliamo i parlamentari facciamole tutte ma a un certo punto diremo basta ci sarà qualcuno che dica basta basta il titolo del libro di Lily Gruber no ma lì è basta delle cose molto più importanti sono 25 anni mi ci metto dentro anch'io non mi chiamo fuori però è insopportabile è diventato temo comunque che sul fronte della demagogia ne vedremo di più e non di meno nei prossimi mesi e anni temo grazie grazie Vittorio Sgarbi grazie Anna Falcone grazie Paolo Mieli il suo nuovo libro Le verità nascoste pubblicato da Rizzoli grazie spettatrici e spettatori linea subito a Diego Bianca il suo propaganda live con molti ospiti quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani arrivederci grazie